a culture social art diamo il benvenuto a mirko carrivali che fa parte del carne che un adesso è diventato un trio dimmelo sì 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 alla fine sì poi diventato un trio poi insomma se c'è da uscire e fare la serata completa siamo tutti una band insomma in base alle esigenze ci smeziamo oppure ci ricomponiamo intanto ti diamo il benvenuto qui a culture social art grazie grazie ragazzi grazie a voi che mi avete invitato allora noi noi siamo qui perché è uscito a gennaio il vostro ultimo singolo che sarebbe tutto semplice è il titolo di questo di questo singolo che già dal dal titolo è tutto un programma perché parla di cambiamento ma sarebbe tutto semplice cosa innanzitutto dici da come è nato questo brano se sarebbe tutto semplice se 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 fosse sta no in realtà è un brano molto intimo che comunque tende ad accarezzare tutti quei ricordi quelle situazioni che abbiamo vissuto che ci hanno anche resi quello che siamo però che ci portiamo dentro anche nella nel presente attuale ecco quindi l'idea effettivamente era proprio riassumere un po questo concetto sarebbe tutto semplice se aggiungevi tu sotto parliamo di cambiamenti come come vivi tu il cambiamento beh il cambiamento è un qualcosa che 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 comunque succede una cosa inevitabile e poi nel bene e nel male ognuno valuta la propria il proprio percorso di vita diciamo che con molta probabilità necessita sempre un po di un assestamento però col senno di poi magari sono a volte ci rendiamo conto che proprio doveva essere così ecco quali sono i cambiamenti che hai fatto tu attraverso la musica che comunque una passione e un lavoro molto importante per te beh sicuramente dei cambiamenti di crescita anche per quanto riguarda la cultura musicale perché poi diciamo che ogni periodo della vita probabilmente alla propria colonna sonora e sicuramente questo accresce anche appunto la propria la propria consapevolezza direi che questo è stato uno dei principali abbiamo detto che il singolo è parla di cambiamento quando scrivi componi o ti metti lì per per poter presentare un brano ecco quali sono i tuoi i tuoi sentimenti le emozioni come nasce un brano beh in questo caso devo dire che comunque abbiamo la fortuna una fortuna di avere un team molto forte e confrontiamo tutte quelle che sono le idee e poi da lì nasce effettivamente il tutto ad ogni modo penso che sia un'esigenza l'esigenza di sentire che bisogna dire qualcosa ed è difficile molte volte dirlo nella vita nella vita reale nella vita nella quotidianità di tutti i giorni quindi in questo caso come mezzo si è utilizzato appunto la musica e insieme al singolo è uscito anche il videoclip girato in bianco e nero ecco perché la scelta di girare in bianche in bianco e nero che sembra proprio ritornare un po all'attenzione nei film nei videoclip era l'idea era un po quella perché appunto con l'idea del bianco e nero sembra già un ricordo qualcosa che è già passato qualcosa che è già stato vissuto quindi c'era proprio quest'idea di adattarsi a quello che era poi il filone della della canzone e ci piaceva proprio la percezione che il bianco e nero dava che era appunto quella di un ricordo di qualcosa che era passato ma che comunque era ancora attuale presente allora si parla nel nel brano anche e soprattutto di passato e futuro non si parla del presente ecco perché perché molte volte si tende a dimenticare di vivere l'attimo di vivere il presente e si pensa cosa faremo domani cosa succederà domani chissà cosa sarà di domani è un po questa probabilmente l'attitudine invece il presente va va comunque valorizzato e ancora una domanda sul sul singolo che cosa speri che i tuoi fan e le persone che ascoltino il brano che devo dire che anche molto orecchiabile riprendano dal dal testo dalla musica beh diciamo che se una melodia una canzone una qualsiasi forma d'arte emoziona io penso che questo sia un qualcosa di speciale penso che questa sia appunto la magia della musica quindi se qualcuno dovesse rivedere qualcosa che comunque ha vissuto e e questa cosa gli ha regalato emozioni diciamo che questo sarebbe una cosa veramente bellissima ecco quali sono i prossimi eventi che porteranno avanti e che porterete avanti con il singolo noi siamo proprio un gruppo una situazione che che vive giorno giorno per giorno quindi l'idea principale è quella di continuare a fare musica il più possibile soprattutto avere contatto con quelle persone perché quella è proprio la nostra dimensione quindi l'idea fondamentale è quella poi insomma tutto quello che verrà in più sarà oro colato periodo san rimese casa sanremo è comunque dice proprio il termine casa sanremo qualcosa che ospita varie non solo musica ma so che ospita anche letteratura e varie altre arti per fortuna avete presentato lì il vostro singolo come vi fa sentire beh siamo onorati di fare parte di questa cosa quindi di vivere questa questa emozione di direttamente direttamente sanremo perché io penso che viverla proprio nel periodo appunto del che verrà vissuta nel periodo del festival sia stato qualcosa di di eccezionale quindi io penso sicuramente un sentimento di positività di felicità estrema allora è uscito il singolo cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi da carne sicuramente tanti live che cercheremo di suonare in giro il più possibile e poi avremo anche la fortuna di e l'onore il piacere di poter aprire il nome ad incontro sabato 17 17 febbraio quindi anche quella sarà veramente un'emozione pazzesca mese di febbraio intenso allora noi siamo contenti che il mese di febbraio sarà intenso però mi piace lasciare l'intervista con un'ultima domanda un po particolare qual è il tuo sogno nel cassetto a livello musicale ma anche personale se vuoi beh io li raggruppo li raggruppo tutti in uno continuare a fare le cose che mi rendono felice quello è il suo del principale allora io ti auguro davvero di riuscire a ad essere in grado di portare avanti tutto tutto questo e soprattutto di cuore grazie che ti è ti caratterizza perché comunque è vero che sei stanco perché vieni da un viaggio però sei proprio sereno al cioè si vede ho la faccia un po' fatta però insomma ci siamo ricordiamo intanto che il singolo può essere ascoltato e anche il video su tutte le piattaforme online assolutamente assolutamente poi metteremo tutte le informazioni su tutti i social e ci potete trovare veramente ovunque e carne band tiktok instagram facebook così insomma penpenino mettiamo tutto e vi svegliamo le cose un passo alla volta va bene allora un grandissimo in bocca al lupo viva il lupo grazie veramente di cuore per l'invito un grande abbraccio grazie a te ciao